Approvato in Senato il passaggio di Montecopiolo e Sassofeltro in Emilia Romagna. Assemblea ai bregatori, la stagione inizia con pochi ombrelloni per gli hotel. Ripartono le visite agli ospiti di casa Roverella. Altro giro, il progetto firmato dalla Onlus Gulliver dona un nuovo gioco inclusivo alla città. Un nuovo gioco inclusivo alla città. In apertura parliamo della votazione che ha avuto luogo nella giornata di ieri in Senato e che ha ufficializzato il distaccamento dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltro dalla provincia di Peser Urbino e dalla regione Marche per consentirne il passaggio in Emilia Romagna. Ne parliamo in questo primo servizio. Con il risultato finale di 166 voti favorevoli, 41 contrari e 12 astenuti, ieri il Senato ha dato il via libera definitivo per il passaggio dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltro dalle Marche e dalla provincia di Peser Urbino all'Emilia Romagna, nell'ambito della provincia riminese. Il lungo iter referendario aveva avuto origine nel giugno del 2007, con le votazioni nei due comuni. Qualche anno più tardi, nel 2012, era poi arrivato il via libera per l'aggregazione da parte dell'Emilia Romagna, mentre nel 2016 la regione Marche aveva espresso parere contrario. Nel 2019, infine, la Camera aveva approvato il distacco di Montecopiolo e Sassofeltro. Tappe di un percorso durato 14 anni e il cui esito finale ha suscitato diverse reazioni dal mondo politico e non solo, a partire dal presidente della provincia di Peser Urbino, Giuseppe Paolini, e dal presidente della regione, Francesco Acquaroli, che hanno espresso dispiacere per la perdita di un'importante zona del Montefeltro. Il sindaco di Montecopiolo, Pietro Rossi, ha ricordato poi le indicazioni emerse durante il voto del 2007, dove oltre l'80% dei votanti per entrambi i comuni si era dichiarato favorevole al cambio di regione. I comuni di Montecopiolo e Sassofeltro, dopo 14 anni di attesa, hanno avuto finalmente una risposta. Con questo referendum è stata fatta una scelta da parte dei cittadini. Nel corso degli anni ci sono stati diversi eventi ostruzionistici per questo referendum. Dopo 14 anni è stato concluso l'iterreferendario e finalmente possiamo costruire e pensare a dei progetti di lunga durata. La decisione al tempo è stata presa in poche ore. Purtroppo le mosse politiche che hanno bloccato questo referendum non hanno fatto altro che portare divisione all'interno del paese stesso. Ma posso parlare, questo lo posso dire sia per Montecopiolo che per Sassofeltro. Oltre che la divisione fra le persone c'è stata poi anche una mancanza di sviluppo. Perché è logico, io capisco bene anche la provincia di Pesaro e la regione Marche che quando dovevano pensare di investire sul territorio avevano sempre in mente questi sono quelli che andranno via. La difficoltà appunto nel riuscire a portare avanti progetti a lungo termine era dovuta anche a questa indecisione di identità. Ci sono stati degli interventi durante gli anni, soprattutto due anni fa quando c'è stata la mia campagna elettorale con una persona in particolare che ha preso, ha voluto prendere in mano quello che era appunto il comitato che si opponeva dicendo cose impossibili, illudendo i cittadini nella possibilità di fare un secondo referendum. Era impossibile farlo anche perché l'Italia del primo non era ancora concluso. Questa è stata un'ulteriore divisione che c'è stata perché il risveglio delle persone che non volevano passare in Emilia Romagna è stato fatto nel peggiore dei modi. Parliamo anche di cronaca perché si sono verificati questa notte all'interno della scuola primaria Don Milani situata in via Toscanini a Pesaro, alcuni atti vandalici che hanno portato al danneggiamento di locali e infissi all'interno dell'edificio. Ancora ignoto il gruppo di malintenzionati che si è reso protagonista del gesto, su cui stanno tuttora indagando i carabinieri. E si è svolta ieri pomeriggio nella cornice dell'Alexander Museum Palace Hotel di Pesaro l'Assemblea degli Albergatori a pochi giorni dall'effettivo inizio della stagione estiva 2021. Diverse le problematiche evidenziate dal presidente di Apo Hotel Fabrizio Oliva che sentiamo in questo prossimo servizio. Pochi ombrelloni destinati alle strutture ricettive della città a pochi giorni dall'inizio della stagione estiva. È iniziata evidenziando la maggior problematica riscontrata tra titolari e gestori delle strutture ricettive cittadine l'Assemblea degli Albergatori Pesaresi. A sottolineare le carenze riscontrate in tema spiagge è stato il presidente Apo Hotel Fabrizio Oliva. Questa è l'Assemblea prima dell'apertura della stagione che anche questo non presenta non poche difficoltà. Ovviamente è stata un'Assemblea molto partecipata, c'erano tantissimi albergatori. L'argomento clou non poteva che essere quello delle spiagge dove purtroppo ancora ci sono albergatori che non hanno la possibilità di avere gli ombrelloni quindi rischiano comunque di rinunciare a delle prenotazioni. Noi abbiamo avuto un incontro anche stamattina con l'amministrazione comunale, abbiamo fatto in queste settimane una grossa azione di pressione nei confronti dell'amministrazione affinché mettesse a disposizione altri fondi per il ripascimento delle spiagge, li abbiamo ottenuti, vorremmo che questi soldi per il maggior ripascimento servissero a dare più ombrelloni agli albergatori. I prossimi giorni saremo convocati assieme agli operatori di spiaggia in comune per essere conseguenti. Durante l'assemblea si è poi discusso dell'assetto e dell'arredo urbano della zona mare per la prossima stagione estiva. In questo caso critiche e voci di dissenso sono state espresse soprattutto per la riproposizione dell'isola pedonale lungo viale Trieste. Si è discusso dell'arredo urbano della città, in modo particolare si è discusso della zona di Levante e della zona di Ponente e la soluzione di Levante è abbastanza condivisa perché l'abbiamo chiesto noi come albergatori, era prevista la ruota panoramica, è stata spostata, ora ovviamente comunque il piazzale Trieste va abbellito e va fatto un minimo di animazione. Mentre per quello che riguarda la zona di Levante, quindi l'isola pedonale, questa isola pedonale non è molto condivisa da noi e quindi avremo spiccato il non ripetersi, il non ripetersi la situazione del 2020, perché rischiamo di avere tutto il Viale Trieste desertificato dalle 9 del mattino fino alle 18 del pomeriggio. I numeri elencati dal presidente Oliva parlano di una riapertura graduare delle strutture, con il 60% degli alberghi, stagionali compresi, pronti a riaprire entro i primi giorni di giugno, per arrivare poi alla completa ripresa entro la fine del mese. Tra le novità annunciate, la costituzione insieme agli albergatori di Gabicce dell'Associazione del San Bartolo per una promozione del territorio unita insieme ai territori della riviera, Pesaro, Gabicce e Gradara. Sulle tematiche nazionali, Oliva ha sottolineato la necessità di abolire il coprifuoco già a partire dall'inizio del prossimo mese, mentre a livello locale è stato firmato insieme al presidente Aspes Luca Pieri un accordo che garantisce uno sconto a dipendenti e turisti degli alberghi per effettuare tamponi rapidi nelle farmacie comunali. Noi siamo stati la prima associazione in riviera a fare l'accordo con le farmacie comunali per poter fare i tamponi sia per i turisti sia per i dipendenti delle strutture ricettive. Quindi la Convenzione prevede la possibilità presso le due farmacie comunali che sono in zona mare quindi in Viale Fiume e a Soria di poter fare i tamponi al prezzo scontato di 12,70 euro. E ora la pagina degli aggiornamenti Covid sul territorio regionale e provinciale. Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 3.997 tamponi, 1.991 nel percorso nuove diagnosi di cui 473 nello screening con percorso antigenico e 2.600 nel percorso guariti con un rapporto positivi testati pari al 6,6%. I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 132 con 33 casi registrati nella provincia pesarese. Nella serata di ieri il Servizio Sanità della Regione ha inoltre notificato un nuovo decesso causato dal Covid. E si è insediato questa mattina il nuovo prefetto della provincia di Pesaro e Urbino, il dottor Tommaso Ricciardi. Dopo un breve incontro con i dirigenti e il personale della prefettura il prefetto si è recato in visita al sindaco di Pesaro Matteo Ricci e successivamente ha proseguito la visita istituzionale recandosi al Palazzo di Giustizia dove c'erano ad attenderlo il Presidente del Tribunale e il Procuratore della Repubblica. Nel pomeriggio si è invece svolto un incontro in prefettura con i vertici delle Forze dell'Ordine. Mentre domani avverrà il primo incontro con la stampa che vi racconteremo appunto nel telegiornale di domani sera. E sono ripartite dall'inizio di questa settimana le visite dei familiari agli ospiti di Casa Roverella. Gli incontri dal vivo interrotti per oltre un anno a causa del Covid sostituiti principalmente dalle videochiamate sono ripresi in seguito al completamento della vaccinazione per tutti gli ospiti della struttura e grazie all'elaborazione di rigidi protocolli di sicurezza destinati ai visitatori. Vediamo. Grazie a regole precise e importanti protocolli di sicurezza sono ricominciate a partire da questa settimana le prime visite dei familiari degli ospiti della struttura Casa Roverella. Tra le misure essenziali previste dal protocollo nazionale per poter accedere alle visite risultano esserci il completamento del percorso vaccinale, una certificazione che attesti l'avvenuta guarigione dal Covid negli ultimi sei mesi oppure un tampone con esito negativo eseguito nelle 48 ore precedenti all'incontro. Obbligatorie prima e durante la visita anche le altre regole di sicurezza, tra cui la misurazione della temperatura e la sanificazione delle mani prima dell'ingresso, l'utilizzo della mascherina durante la visita e la firma del patto di condivisione del rischio, attraverso cui visitatori e parenti si impegnano a mantenere comportamenti per evitare il contagio anche al di fuori della struttura. Le visite sono ripartite lunedì. Per noi è un impegno, per la struttura chiaramente è un impegno perché comunque ulteriore rispetto alla normale gestione perché comunque richiede l'impegno di ulteriore risorse umane. Su questo ci sta dando un grosso contributo l'Anteas attraverso la messa a disposizione di volontari. Le regole sono che venga un familiare alla volta e poi i familiari chiaramente possono variare. Durante la giornata riusciamo a fare una quindicina di visite tra mattina e pomeriggio e diciamo che ogni familiare nell'arco della settimana riesce a vedere il proprio congiunto almeno tre volte. A seguito della pandemia il sistema pubblico ha dovuto reperire ulteriori risorse sanitarie, quindi medici e infermieri. Quello che ci ha toccato a noi come struttura, ma non solo a Casa Rovadella, credo tutte le strutture che si occupano della gestione di persone anziane, è la carenza del personale infermieristico che è stato appunto assorbito dal sistema pubblico. Da parte nostra e da parte di tutte le strutture che si occupano appunto di residenzialità per anziani, c'è quella di sollecitare la regione affinché intervenga soprattutto nell'aumentare il numero di persone che vengono formate nelle scuole infermieristiche e c'è un'altra possibilità che è quella di abilitare l'OS, che è una figura socio assistenziale, a svolgere alcune mansioni di natura sanitaria a supporto dell'infermiere. Gli ospiti finalmente dopo più di un anno possono toccare le mani dei loro cari e lo stesso per i familiari. Fino a questo momento i contatti c'erano stati perché abbiamo cercato di mantenere il più possibile un filo diretto con la famiglia, ma erano contatti attraverso tablet, quindi attraverso videochiamate, quindi non c'era il tatto e questo è mancato tanto. Quindi tante lacrime ci sono state adesso in questi primi incontri. Sono stati mesi davvero duri dal punto di vista psicologico, ci sono stati un aumento molto importante di tutti i disturbi dell'area dell'umore e un aumento dei disturbi comportamentali, quindi delle sindrome di declino cognitivo. È stato tanto difficile anche per i familiari perché comunque era forte il senso di impotenza, comunque noi cercavamo di mantenere un contatto, però alla fine si dovevano comunque fidare e affidare totalmente a noi e alle nostre parole, non c'era il loro supporto. Quindi il nostro lavoro di psicologo poi ovviamente è cambiato tanto in questi mesi, quindi siamo passati dal fornire un sostegno generale alla struttura, agli operatori e ai familiari al diventare proprio tramite il collegamento tra la struttura e la famiglia. Le emozioni diciamo che sono un po' contrastanti tra la soddisfazione di rivedere i familiari e comunque rivederli in queste condizioni, perché comunque sia la mia è una situazione che non è diciamo di contatto diretto, è un contatto soltanto visivo, però almeno abbiamo fatto un passo avanti tra la videocamera e la presenza, quindi è già un miglioramento. Dinner in the Sky, il ristorante che dà ai suoi commensali la possibilità di cenare o degustare un aperitivo sospesi a 50 metri di altezza, torna nella città di Pesaro il 30 e il 31 luglio e il 1 agosto del 2021. Il format farà tappa nella suggestiva cornice di Baia Flaminia e sul sito è già possibile prenotare un biglietto per una delle quattro diverse formule in programma, appunto aperitivo, apericena, cena o after dinner. E si è concluso ieri il progetto Bimbi e Bus per i bambini della classe quarta della scuola primaria gadana di Urbino. Il progetto, sospeso dopo il suo inizio a causa del Covid, è terminato con un viaggio su un bus che ha fatto sosta al Park Santa Lucia di Urbino. Gli alunni a cui è stato consegnato un attestato come viaggiatore modello hanno poi fatto visita agli uffici direzionali di Adrebus dove sono stati ricevuti dal presidente Luciano Balducci e dal direttore generale Massimo Benedetti. E torna dal 2 al 6 giugno a Fermignano il festival di letteratura per l'infanzia Straccia Minaccia. Giunta la sua quarta edizione, la rassegna il cui obiettivo è sensibilizzare famiglie e bambini sull'importanza della lettura con mostre, laboratori creativi e presentazioni di libri. Si aprirà il prossimo mercoledì alle ore 18 presso la sala Bramante di Fermignano con l'inaugurazione della mostra Nome di Battaglia Nero che proporrà le tavole dell'omonimo libro scritto e illustrato da Sonia Maria Luce Possentini. E sarà inaugurata giovedì alle ore 17 presso l'atelier Palmieri di via Castelfidardo a Pesaro la mostra fotografica Ci siamo, non ci siamo 2020-2021 del fotografo Sergio Palmieri. L'esposizione rimarrà attiva fino al prossimo 15 giugno. E continua il progetto di economia circolare altro giro promosso dalla Ollus Gulliver e dal comune di Pesaro che questa mattina ha permesso di donare un nuovo gioco inclusivo alla cittadinanza nel parco di Piazzale Curtatone. Vediamo. Siamo in Piazzale Curtatone, è stato donato un'altalena inclusiva per i bambini con disabilità perché è stata richiesta da una famiglia che ha in casa un bambino con disabilità e quindi mancavano dei giochi adatti e ha chiesto alla Ollus Gulliver ecco questa cosa e noi con molto piacere abbiamo accolto la richiesta. Grazie ai cittadini che portano i loro oggetti inutilizzati alle botteghe del riuso della Gulliver e grazie ai cittadini che vanno nelle botteghe ad acquistare e con il ricavato possono venire acquistati questi giochi per i parchi. Le donazioni poi non si fermano? Assolutamente no, abbiamo in progetto altri giochi sempre per i parchi perché quest'anno il progetto si chiama Altro Giro insomma e fa parte dell'economia circolare insomma tu doni, noi vendiamo e con il ricavato come dicevo prima vengono acquistati oggetti per la città, per i parchi o altro. La Gulliver ha dimostrato grande disponibilità e grande sensibilità rispetto al progetto di nuovi giochi, oggi andiamo ad inaugurare un'altalena inclusiva che ci è stata chiesta appunto da una nonna che risiede qui nella zona e ci sembrava un bel messaggio, messaggio ulteriore ovviamente quello che ci lascia la Gulliver è non buttare via niente perché tutto può ritornare, in questo caso vestiti, mobili che uno a casa invece di buttare magari li porta alla Gulliver e continuerà insomma anche per i prossimi mesi questo progetto delle aree giochi, so già che si sono attivati l'associazione con il quartiere di Villa Fastigi per posizionare il prossimo dono che arriverà. Quest'onda di collaborazione tra pubblico e privato rispetto alle aree giochi sta andando e ci sta travolgendo, siamo particolarmente soddisfatti, l'Avis ci ha detto che donerà un paio di giochi e metteremo al parco Miralfiore e quindi aspettiamo magari che anche altri percorrano la stessa strada, quella di collaborare con l'amministrazione, con i nonni, con i bambini, con i genitori perché quando regali un gioco sicuramente dai felicità a tante persone. Per il diciassettesimo anno consecutivo la bandiera blu sventola nel lungomare pesarese. Questa mattina al moletto si è svolta la cerimonia di riconoscimento per i 56 stabilimenti balneari di Ponente, Levante e Sottomonte. Vediamo. Siamo molto felici infatti anche quest'anno di poter sventolare questo bel vessillo sulle spiagge di Pesaro perché anche quest'anno ci confermiamo come spiagge accoglienti, acqua pulita, mare buono, servizi adeguati sia alle famiglie che ai più giovani e insomma per tutte le fasce d'età. Peccato Baia Flaminia ma anche lì i dati stanno in miglioramento ogni anno e quindi abbiamo delle buone speranze di riuscire anche nel futuro a poter portare questo traguardo anche là. Non è un riconoscimento così scontato, basta vedere in giro per l'Italia anche in un anno complicato come quello che abbiamo passato diverse località l'hanno persa, tante località della Toscana quindi insomma a riprova che non è diciamo un rinnovo automatico una cosa che sarà per scontato ma che è un obiettivo che si raggiunge grazie allo sforzo di tutti, di chi si occupa della qualità delle acque sia a livello amministrativo ma anche delle abitudini dei cittadini, un risultato ottenuto negli anni grazie ai progressivi allacci al depuratore, insomma tante politiche che fanno in modo che la bandiera blu possa sventolare garanzie della qualità delle acque e anche dell'accoglienza turistica perché poi i vari parametri che vengono presi in considerazione non riguardano solamente la qualità delle acque che ovviamente è il primo dato fondamentale ma tutta una serie di elementi, dei servizi, l'accoglienza, le politiche ambientali integrate, a tutto quello che insomma in questi anni abbiamo cercato di sviluppare per cui Pesaro si sta finalmente negli ultimi decenni diciamo caratterizzando. E continua anche la rubrica dedicata agli appassionati del giardinaggio con i consigli in vista dell'arrivo dell'estate. I primi consigli che sicuramente posso darvi sono poi quelli che riscontriamo noi ogni giorno nella produzione delle nostre piante fiorite, ci piace di fatti chiamarci gli artigiani delle piante e sicuramente quella di non far mancare l'acqua ai nostri fiori nel periodo estivo, quindi adesso con l'arrivo della bella stagione dobbiamo incrementare le bagnature. Un primo consiglio che vi posso dare quando andiamo a bagnare è quello di assicurarci che abbiamo bagnato a sufficienza le nostre piante. Se ad esempio vediamo subito percolare l'acqua nel sottovaso dobbiamo stare attenti che la terra sia realmente bagnata, molto spesso la terra è talmente asciutta che non riesce ad assorbire adeguatamente l'acqua. Assicuriamoci attraverso il peso della vaschetta che sia sufficientemente bagnata. Inoltre un secondo consiglio e un mito da sfatare è sicuramente quello del concime. Continuiamo a concimare le nostre piante anche nel periodo estivo mantenendo sicuramente le dosi d'etichetta e con una cadenza almeno settimanale. Il terzo consiglio che vi posso dare sicuramente nel caso in cui abbiate sul balcone delle bellissime surfiglie è quello di spuntarle. Sembra una cosa fuori ogni regola ma se potiamo le nostre surfiglie adeguatamente vedrete che rincominceranno subito a fiorire. Quindi prima di aspettare che la pianta si rovini completamente possiamo agire quindi con le forbici spuntando la pianta dandogli questo stimolo a ripartire nuovamente con nuovi getti che porteranno poi tantissimi nuovi fiori. Vedrete i risultati della vostra potatura dopo circa 15 soli giorni. Se invece è la prima volta che vi trovate ad allestire un balcone fiorito gli artigiani delle piante hanno pensato a voi attraverso questa balconiera già pronta per allestire il vostro terrazzo. Questa è una balconiera composta da surfiglie che vengono piantate direttamente da noi all'interno di questa balconiera e fin da piccole piccole quindi crescono intrecciandosi una con l'altra per creare poi questo effetto a cuscino fiorito. Come sempre vi consiglio di mantenere al meglio con l'acqua, con cime e se ci dovesse essere il bisogno attraverso potature. E questa era davvero l'ultima notizia per il nostro telegiornale. Vi ricordo ora la prima serata di Rossini TV. Come tutti i mercoledì, questa sera alle 21.15, un nuovo appuntamento con qua la Zampa. Lo vedete nel cartello anche gli orari e i giorni delle repliche. Questa sera però la nuova puntata in onda alle 21.15 e vi ricordiamo che è possibile inviarci al nostro numero 370-366-7210 le foto dei vostri animali insieme al loro nome per partecipare appunto e per trasmetterle durante la messa in onda della trasmissione. E vi ricordiamo che è possibile scaricare dagli store digitali Apple e Android la nuova applicazione di Rossini TV attraverso la quale potrete seguire la programmazione della nostra emittente sul vostro smartphone o tablet 24 ore su 24 in diretta oppure rivedere i principali contenuti all'interno delle sezioni appunto dell'applicazione. Vi ricordo inoltre l'appuntamento con l'informazione su Rossini TV che torna puntuale domani mattina alle 7.20 in diretta con la nostra rassegna stampa Buongiorno Rossini. Grazie per averci seguito in questa edizione del nostro telegiornale. Vi auguriamo un buon proseguimento di serata su Rossini TV.